Sarà pure il cuore dell'Adriatico, ma di fatto c'è che quello della Nuova Pescara non ha ancora cominciato a battere. Troppi ritardi sulla sua nascita, troppi rinvii sulla fusione dei tre comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, che dovrebbero dar vita a una realtà territoriale di livello europeo, al centro della tavola rotonda, che si è svolta nella sala consigliare del Comune di Pescara, per volere delle associazioni ex consiglieri comunali e Nuova Pescara, come spiega Marco Camplone, presidente dell'Associazione Nuova Pescara. La Nuova Pescara non piace a una parte della politica. Ci sono degli assessori, dei consiglieri, ma anche a livello regionale, che temono una cosa, l'avvento della Nuova Pescara li può mettere ai margini. Non vale assolutamente il pensiero che vincerà comunque un candidato di Pescara, perché Pescara è la città più grande. La fusione valorizzerà tutti e tre i territori, innanzitutto dando delle specificità e non mettendoli in concorrenza l'uno con l'altro. Noi riteniamo, come associazione Nuova Pescara, che il commissario ad acta sia assolutamente indispensabile, perché dal referendum alla legge regionale adesso non è stato fatto nessun passo in avanti. Sono state sì nominate le commissioni, ma le commissioni non vengono messe in condizione di lavorare, perché c'è il giochetto di far mancare il numero legale. Noi ci meravigliamo di una cosa, che in tutto questo tempo il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, non sia mai sceso in campo. Attenzione, la Nuova Pescara è un fatto politico, la legge è regionale e il governatore, in sede di campagna elettorale, ha detto che era favorevole e che in caso di vittoria si sarebbe adoperato per arrivare alla fusione. Noi finora non abbiamo visto nulla. Di rinvio in rinvio c'è una data certa oltre la quale non si potrà più andare? Voglio ricordare che le scadenze erano 1 gennaio 22, nel caso in cui non ce l'avessero fatto, c'erano altri due anni, quindi 1 gennaio 24. La data del 1 gennaio 22 è stata spostata di un anno, al 1 gennaio 23, per la questione del Covid. Dopodiché subentra il commissario prefettizio, a meno che i tre consigli comunali, i due terzi di ogni consiglio comunale, non chiedano alla regione un ulteriore posticipo della legge. Ma se l'obiettivo è quello dall'inizio non va bene. È il momento di nominare un commissario ad acta che proceda, anche perché la perdita di tempo equivale a una perdita di risorse per il territorio. Non c'è più tempo da perdere. Abbiamo visto anche sparire i primi 300 mila euro che la regione ha destinato a Nuova Pescara. Perché Nuova Pescara non è una fusione tra le tante, è la maggiore fusione. È una realtà di livello europeo.